Check! Ehi Suki! Sei in farura? Nooo! Tutti pronti? Per la giornata dolce! Com'è? Un po' sbreghino! Vedi no? Che traiettore sto facendo! Sia amore che c'è grazie! Non mi piace! Mi sta di mountain bike! Questa? Sì! Un incidente tecnico! Sì! È accaduto? Ah! Porca vacca! E' miscia! Sto a posto? Sì! Ah! Tenuto fino alla fine così! Con una gamba! Poi veniva già a fare! Ah! Con uno scissolo! Con uno scissolo! Sì! Ma perché è come una gamba! Poi subi sul piano! No? Uno dice finisola Gobetto! Sul piano! Magari! Capri dov'è? Destra finita! Destra! Teniamo! Sì sì! Destra! Destra! Un bel 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 Grazie a tutti. Bella questa qua, a me piace da morire, poi non c'è mai nessuno, poi c'è sempre pochissima gente, poi arrivi qua e ci sono questi due murretti qua. No ma no, sai cos'è che o vanno dritti che vanno dall'altra parte o se no si buttano sulla quella lì dei visto della seggiovia. Che ragazza è pazzesca questa pista. Eh? Bella. Dai la facciamo. La facciamo dai, sì sì. Dov'è che si passa ora? Di qua. Per me va bene. Dove andiamo? Andiamo giù, intanto dobbiamo ritornare giù. Qua dobbiamo andare, sì qua dobbiamo andare per porta di nuovo in fondo. C'è la beta che ci aspetta giù in fondo. Ok. 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 Ok.